Il Deo Officis fa parte delle opere filosofiche di Cicerone, che nutri per tutta la vita un profondo interesse per la filosofia. Per Cicerone la filosofia era un requisito indispensabile per l'oratore e il politico ideale. Alla composizione di opere filosofiche egli si dedicò solo nei periodi di amarezza causati dall'emarginazione politica e dalle disgrazie familiari, al ritorno dall'esilio nel 57 a.C. e poi al tempo della dittatura di Cesare. Dedicandosi alla filosofia Cicerone si prefiggeva due scopi, cercare un conforto alle disgrazie pubbliche e private e rendersi utile alla comunità anche in un periodo di forzata in attività politica attraverso la creazione di una letteratura filosofica in lingua latina. Cicerone ebbe un ruolo importantissimo nella filosofia romana, non solo perché veicolò a Roma i contenuti della filosofia greca, ma anche perché li adattò al contesto della società romana e creò un vero e proprio lessico della filosofia in latino, prima di lui del tutto inesistente. Questa non fu un'impresa facile se pensiamo allo scetticismo che la società romana aveva sempre manifestato nei confronti della filosofia greca, perché temeva non solo che potesse corrompere i giovani ma anche che potesse distogliere dall'impegno civile. Da questo intento divulgativo deriva l'atteggiamento di Cicerone nei confronti degli aspetti dottrinali delle varie scuole filosofiche, in particolare ellenistiche. Egli si serve del metodo dossografico, mette cioè a confronto le opinioni, in greco doxai, di diverse correnti filosofiche su determinati argomenti e problemi, per verificare se alcune siano più coerenti e probabili di altre. L'impostazione del pensiero di Cicerone è dunque per sua natura eclettica, cioè eterogenea. Egli non aderisce a un'unica corrente di pensiero, ma preferisce assumere nei confronti di tutte un atteggiamento disponibile e aperto, ma anche critico e indipendente. Nel campo dell'etica, tuttavia, egli si oppone drasticamente all'epicureismo, giudicato socialmente pericoloso per il materialismo e il disimpegno in politica, approvando invece lo stoicismo che si adattava meglio alle esigenze della mentalità pragmatica romana.